Io mi aspetto che la giustizia gli attribuisca le responsabilità che non hanno voluto prendersi. Dopo mesi di menzogne è l'ora della verità, ricostruita dopo una lunga indagine. La famiglia 90 vuole giustizia. Domani si apre il processo ai fratelli Sorgato e Emanuela Cacco, in aula per il rito abbreviato. Il trio diabolico è accusato di aver ucciso Isabella la notte del 15 gennaio 2016. Dobbiamo vedere se verranno al processo. Comunque anche le altre udienze si sono sempre guardati i piedi, non ti guardano in faccia, sono persone che te la fanno dietro. Sui tre pesano numerose prove, a partire dagli sms tra Freddy e Emanuela e tra la tabaccaglia e Deborah Sorgato, che proverebbero la premeditazione dell'omicidio. Poi ci sono le immagini delle telecamere che riprendono la passeggiata in centro a Padova, quando Emanuela indossa il giubbino bianco e si finge Isabella. Mancano però le due prove regine. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato, nonostante le numerose immersioni nel Brent accostate anche la vita di un sub della polizia, Rosario Sanarico. E poi l'arma del delitto mai ritrovata. Freddy, subito dopo l'arresto, aveva detto che Isabella era morta soffocata durante un gioco erotico, una versione che non ha mai convinto la famiglia della donna e gli inquirenti. Manuela Caco invece aveva confessato che ad uccidere Isabella sarebbe stata Deborah con una mazzetta, ma lei non era presente al delitto. L'assorgato invece ha negato quella notte dopo essere tornata dal lavoro, dice di essere andata subito a dormire. Sesso, vendetta, soldi, gli ingredienti di un giallo che da oltre un anno attende risposte. Risposte chieste dalla madre di Isabella, Ophelia, che dopo tanto dolore desidera solo giustizia e una degna sepoltura per la figlia. È stata ricoverata in ospedale per dieci giorni, adesso si è recuperato un pochettino, però è molto molto nervosa, è molto provata da questa situazione. D'altronde non è tanto il processo, è proprio per la mancanza di sua figlia. La sentenza è prevista il prossimo 6 giugno.